Il bagnetto per Appy, una bellissima amaremana adottata da una situazione terribile, vero? Lei se la gogge, si rilassa, si fa fare di tutto. E prima del bagnetto cosa abbiamo fatto Appy? Facciamo vedere quanto pello abbiamo tolto? Andiamo a vedere. Come no? Sì, sì, facciamo io a vedere. Dai andiamo a vedere, non ridere. Qua quanto pello di Appy abbiamo tolto. Uè, ma cos'hai fumato te? Sembra un po' Bob Marley della situation. Ti piace così tanto sta grattata? Uè! No, uomo, manucca. No, uomo, manucca. Il risciacquo. Facciamo un baisamo. Uè, te è proprio qualcosa più rilassante. È vero, giovanotta? Voi la mia patatina, la più brava del mondo. Voi la patatina, la patatina. La Bob Marley, è vero? Amore, sì, te lo metti anche lì adesso il balsamo. Aspetta che te lo metti lì, aspetta. Perché fa le stesse cose che si è anche con la zampa dietro. Guarda, ah, direttamente lì. Poi fai anche la zampa dietro. Aspetta, la metti anche la zampa dietro. Ah! Ma tu sei una bambina! Vedete? Ah, che bella la vita. Madonna mia. Che tipa. Pazzolata con il balsamo. Ah, questo è proprio quello che ci voleva. Anche con gli occhi chiusi. Ma ti prego. Ma che ti ridi? È il tuo compleanno? Che tipa. Eppi, era più simpatica la Peppi. La Peppi è più la più simpatica. Parte dietro. Che bella la vita. Ma la faccia, vi prego, guardate la faccia. Sembra tipo quando vedi quei video su TikTok delle tippe che vanno dalle cinesi a farsi fare sei massaggi. No? Tessa cosa. Ah, che bella la vita. E' un bel risciacquo. Eppi, appi. Da seduta perché o in comodità o nulla. La fantastica vita di Appi. Di natura. Esploda una bomba in posta? Si vede che è presa la colla intellettica. E' unghie. Sempre che ride. Sempre il suo compleanno. No, non è il suo compleanno. Ma lei è come se lo fosse sempre. Questa aragnetta. Adesso questi pappi rossi qua li leviamo perché sembri il drago di Mulan. Li leviamo, eh. Perché il drago di Mulan era rosso. Ma tutto. E' una patatina. Ma guardate, cocappella. Lavata con perlana. E non diciamo anche l'ingrediente segreto che ha fumato lei prima. Non diciamolo. Vero che con sta faccia qui un po' ti capiranno, immagino, vero? Chi c'è Appi Luzzi? C'è la mamma? Andiamo a trovarla? Intanto scendiamo giù. Magari sto salto e ricordiamo a farlo che è un po' basso. C'è la mamma! C'è la tua cursa! Wow! Ecco qui Appi Luzzi con la mamma. E' vero? Ma che chi ho? Ma sono figliosa. E' evidiosa la mamma. Sì, perché la mamma non ce ne ha così tanti. E' felice, è felice. Ma cosa fa questa qui? La ladra dei biscotti. Dei biscotti. E' felice questa qui. Adesso ci giocano, non lo manda. Cosa fai? C'è sempre quello. Sempre quello. La mia amica.